Ciao, sono Giuliana Materzanini e sono una postdoc a scienza dei materiali computazionale all'EPFL. Ho lasciato la ricerca 15 anni fa, poco dopo il mio dottorato, non riuscendo a conciliare la carriera accademica con la mia vita di giovane mamma. Mi ero ripromessa che mai sarei ritornata e invece 4 anni fa, con i figli già grandi, eccomi qui a EPFL a iniziare un postdoc sullo studio teorico degli elettroliti solidi per le batterie a litio. Il mio lavoro consiste nel preparare ed eseguire su un supercomputer calcoli complessi per simulare la dinamica di un materiale a livello atomico e in base ai risultati prevedere se il materiale è un buon conduttore di litio, se la sua struttura è stabile o tende per esempio a trasformarsi o per esempio come reagisce agli stress esterni. Si tratta di conoscere i fenomeni e la letteratura scientifica, di capire cosa si sta calcolando e con quali tecniche e saper interpretare i risultati e alla fine, se possibile, scrivere una storia nella letteratura scientifica, una piccola goccia che si aggiunge al mare della conoscenza. Se vuoi diventare quello che sei veramente, penso che crederci non sia solo importante, ma sia la sola cosa da fare.